La crescita occupazionale di un territorio passa necessariamente dallo sviluppo economico dello stesso. Ne parliamo con Michele Mazzarano che è candidato al Consiglio regionale pugliese. Lei, Mazzarano, è consigliere uscente ma è stato anche assessore regionale allo sviluppo economico. Parliamo del modo in cui si è cercato di rilanciare l'economia e come andrebbe rilanciata attualmente. La sfida è sempre quella per questo territorio di uscire dalla gabbia della monocultura dell'acciaio e consentire ad altre vocazioni di svilupparsi, di crescere e correre. In modo particolare le vocazioni turistiche, le vocazioni agricole e agroalimentari, la vocazione della logistica, dell'aerospazio. Sono tutti settori che hanno già vissuto degli impulsi che meritano di essere portati avanti. Taranto è stata dotata di una zona economica speciale, Ionico-Lucana, che ha di fatto perimetrato intorno al grande porto di transshipment di Taranto un'area che sarà un'area facilitata da vantaggi fiscali e normativi per gli investimenti. È un'occasione che ci ha messo a disposizione il Governo nazionale, che noi abbiamo colto a pieno e che oggi può già portare degli sviluppi con grandi imprese che stanno arrivando e che stanno decidendo di insediarsi nel nostro territorio. Credo che accanto a questo ci sia bisogno di sviluppare la logistica, di sviluppare l'aerospazio. Noi abbiamo un grande polo potenzialmente esplosivo dell'aerospazio grottagliese che ha già visto l'insediamento di aziende che lavorano per il pilotaggio remoto, per la realizzazione dei droni. Su quella sfera bisogna andare avanti, bisogna accelerare, provando a non perdere al tempo stesso la necessità di una maggiore mobilità per questo territorio e quindi garantire anche la vocazione di quell'aeroporto per il traffico di passeggeri. A questo proposito vorrei ricordare che proprio nella fase in cui sono stato assessore dello sviluppo economico questo territorio ha vissuto di impulsi e anche di investimenti economici legati all'aerospazio, riguardo all'infrastrutturazione delle zone industriali. L'aeroporto di Grottaglie ha in questo momento finanziamenti ingenti che consentiranno anche un ammodernamento dell'aerostazione che potrà consentire l'utilizzo di quell'aeroporto anche per il volo passeggeri. Le zone asi, le zone industriali hanno beneficiato di risorse per l'infrastrutturazione intorno a Taranto, intorno a Massafra. Sono stati calati investimenti che meritano di essere portati avanti e che possono essere propedeutici allo sviluppo di una crescita policentrica che non sia solo legata all'industria siderurgica e all'apparato industriale preesistente. Taranto può sviluppare nuove potenzialità intorno anche alle sue bellezze perché quando parliamo di turismo stiamo parlando dell'industria del turismo. L'industria del turismo con la vocazione fortemente di apertura e di potenzialità del nostro mare è l'industria del turismo che ha già dimostrato su impulso della regione di poter avere uno sviluppo. Penso all'indotto che ha creato il Medimex nelle edizioni in cui la regione Puglia ha deciso di spostarlo da Bari a Taranto. L'immagine più forte dal punto di vista della comunicazione e delle potenzialità culturali e turistiche di questo territorio è stato proprio quando una grande star della musica internazionale, Patti Smith, si è fatta fotografare a Taranto con le cozze di Taranto. Quella è l'immagine di quanto realmente le nostre bellezze, le nostre vocazioni, le nostre risorse naturali possono trovare un grande dispiegamento grazie ovviamente all'opera di promozione che può venire dalle istituzioni.